Noi ovviamente attendiamo sempre la religia, poi potrebbero ovviamente amministrare gli atleti, avranno da poco ultimato le fasi di saldamento degli sfogliatori, vi volo nuovamente ai microfoni di CNTV, questa sera il mitico Fabio. Eh che problema, non ci sto per bloccare tutto. No, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, sei un saluto di conseguenza a casa, sono qui a presentare il titolo di l'Aviglia dell'Aviglia 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 dell'Aviglia. Accogliamo con un caloroso e sportivo applauso della Gran Bretagna, John Ruben! Moltissimo! Tutore tempo ma la lura di l'Aviglia dell'Aviglia d'Aviglia z Ré d'Aviglia Eccolo lì! Alla, l'è fatto! Ma non mi che è l'è fatto! Sentite l'oregno di una sposa! Viene la strada! Eccolo! Viene la strada! Viene la strada! Viene la strada! Eccolo! Eccolo! Grazie a tutti. 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 Buon divertimento a tutti. Grazie 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 a tutti.